Allora, faccio un video abbastanza breve ragazzi oggi sull'Italia, sono anche vestito di azzurro, fatalità, però faccio un video breve, un video in cui non vi faccio neanche l'intro, un video, io non mi sento di esultare per questa vittoria sinceramente, abbiamo fatto solo il nostro dovere, punto. E vi spiego anche perché abbiamo fatto tutti questi gol, perché ragazzi questa Italia è uguale, identica all'Italia di Mancini, Spalletti ha preso gli schemi di Mancini e gli sta ripetendo, non è che sta facendo sto gran lavoro, sta semplicemente eguagliando Roberto Mancini, quando era nei momenti diciamo non top, ma nei momenti buoni, diciamo così, perché oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'Italia che si ha schiacciato la Macedonia dietro, ma la Macedonia, voi dovete anche guardare il punto di vista degli altri, non solo il punto di vista dell'Italia, ragazzi la Macedonia doveva cercare di vincere la sta partita per provare a qualificarsi all'europeo, quindi non poteva giocare tutto in difesa, doveva lasciarti degli spazi, quindi l'Italia ha colpito grazie a questi spazi, poi dopo se guardiamo cosa è successo, sono arrivati due gol da fenomeno da chiesa, vabbè seppur viziati da deviazione, però sono due gol da fenomeno. Tra l'altro rigore sbagliato da Giorginio, che poi secondo me in realtà a parte il rigore sbagliato non ha giocato male, ed è anche questo uno dei motivi per cui abbiamo segnato di più, tra l'altro, perché a centrocampo avevamo uno, un regista che aveva i piedi, le altre volte che abbiamo visto l'Italia di Mancini c'era Cristante, io direi che è meglio Giorginio. E detto questo, appunto a me questa squadra, ma non è neanche colpa, io non do nessuna colpa neanche all'allenatore, cioè ragazzi questa è la squadra che abbiamo, questa è una squadra che esprime questo calcio, ripeto, fa 5 gol ma perché gli altri si scoprono, poi ci fanno il 3-1, malissimo, malissimo, su palla inattiva, cioè contro sti qua dai ma non puoi prendere sti gol, poi 3-2 su un tiro da fuori, deviato, ma quello non deve neanche tirare, cioè, abbiamo giocato contro una squadra di scarpari, abbiamo giocato contro una squadra di scarpari e ancora facciamo una fatica bestia, 3-2, poi ovviamente si scoprono, mette anche gli attaccanti, il suo mette giocatori di peso, si scoprono, poi meno male va che riusciamo a chiuderla col 4-2 e poi col 5-2 però ragazzi, vabbè, questa squadra, ripeto, continua a non piacere, poi con l'Ucraina vabbè, basterebbe non perdere, perché quello basta, quindi cerchiamo di non perdere per fare l'Europeo, però ragazzi, io sono un po', mi sono un po' rotto le palle, poi dopo appunto, adesso non ho ancora visto video di gente, ma so già che diranno grande Spalletti, la cura Spalletti, bravo, eh, io glielo dico che è bravo a Spalletti, certo che glielo dico, però ragazzi, sta facendo, sta giocando alla Mancini 4-3-3, stesso schema, stesse circostanze tattiche, col Berardi che si allarga, Chiesa che stringe, Di Marco che si alza, c'è, sono gli stessi schemi di Mancini ragazzi, è uguale identico, quindi ragazzi, sì, bravo però fino a un certo punto ecco, ma ripeto, qua la colpa non sta nell'allenatore, come non lo era Mancini il colpevole, Beh, il bravo è stato bravissimo con l'Europeo, non è neanche Spalletti colpevole ragazzi, qua ragazzi, i giocatori scarseggiamo anche la difesa ragazzi, ma tu puoi avere una nazionale affidarti a gatti e a cerbi, a gatti e a cerbi ti affidi. Boh, cioè io ragazzi, nonostante 5-2, dovrei essere contento, ragazzi, io non sono contento, io guardo in faccia la realtà, e non sono risultatista, ragazzi, se voi volete un canale risultatista, non guardate il Mustang, il Mustang non è risultatista, io di questo risultato, questo risultato, mi ci pulisco il culo, avete capito? Cioè, è una partita da 6 in pagella perché l'hai vinta, fine, ecco, basta, termino qua, iscrivetevi al canale YouTube se volete, se volete mettete mi piace, sempre Forza Azzurri, ciao!